Noi abbiamo sempre privilegiato come fratelli unitari i candidati a dirvi che questo ci sia, ma non abbiamo però, nel caso specifico, non abbiamo posto che a me non risulta che nelle riunioni che ci sono state finora ci sia stato da parte di qualcuno il tentativo di imporre o decidere un candidato. Abbiamo sempre lavorato insieme per approfondire i profili, perché abbiamo visto i profili sicuramente validi, come dicevo, e questo lavoro credo che ormai ti ha, o meno che di un altro, per cui mi sento abbastanza positiva sul fatto che un pochissimo tempo anche Bologna avrà il suo candidato. Fra Cangini e Battistini lei ha una preferenza tra i due? Guardi, noi non abbiamo espresso preferenze particolari, non per il tema del profilo, che abbiamo sempre detto, di partire dai profili sicuramente, però davvero non ci sono da parte nostra competi da porre o preferenze da sostenere, c'è solo la volontà di giudere.